Grazie a c'è un' respect, vediamo abbiamo siamo tutti, l'anno è un'imposto però è meglio la foglia un'imposto è un'imposto Ello! O, come ibon! Si, ibon! So, iboni! 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 Verifica il nostro paese! Iboni! Sì, sicuro in the future, ragazzo nilang, mga housing development Like, HDB Pwede nilang place ng condo Pero, di natin alam, anong mangiare sa future sa master plan nila Yung long term Anyway, that's the power Business Business na po yan Yung gobyerno Yan So, meron po ditong